buonasera stasera che cosa si magna si magna focaccia la pizza con la mortazza sentite il croce vicino a vicino signorina vicina è caldissima ragazzi non so come può venire il croce avvicina vicina dato che c'era un post su facebook che hanno fatto vedere questa pizza con la mortazza non c'è avvenuta voglia e tagli e quindi il nostro chef ci ha deliziato della sua pizza con la mortazza tagli ora non ci resta che eccola mettate che tale spetta che la la calotta eccola ti è uombre di madre di guarda bellissima adesso la facciamo allora vai eccola la mortazza cerchiamo di essere generosi che la mortazza non fanno i dirchi e eccola e poi se mangiamo solo questa stasera dai e dagli e dagli e giù eccola eccola se non potete capire che se che sento qua del profumo ti è ti è ti è la mani tutta di manue e certo che io la faccio guarda che è che mai ti è aspetta mamma pure a trance di e aspetta fagli vedere cicalù tirate dietro dagli e 1 2 poi fanno così a roma si fa così se fa fanno così ok bella galla non so pure ascoltare ancora le calotta qua sopra la calotta è il tetto è eccola di è 1 2 e 3 poi avvicinati avvicinati per vedere eccola di è 1 2 e 3 che è far appetito ragazzi buon appetito ci vediamo alla prossima non amma ciao 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 aspetta pronti a oa regà eccola è pronta e muovo faccio sentire come si mangia senti il croce dai e buon appetito dallo chef marco silvestri questa porta paura ciao